Dio, mi raccomando, raccolò della parte il refletico da quella ti ho trovato bene un po' qui scosso dai che chiamocazzo perchè qui ci hanno messi qui ma è in noia se il capo vi siete più tranquilli occhi perchè si scivola più forte forse è passione ma sono anche al secondo che avete si si tonde quello che mi fa stare tranquillo è che noi ormai di ferrate se ne fate tante in vita nostra eh no ma c'è capetto eh no ma vedete vedete grappate qui il piano se ci fosse un po' che ha fatto sulla testa eh questo va eh è la testa è la testa Grazie a tutti.